Porte di velte, armadi e cassetti delle scrivanie scaraventati a terra, documenti sparsi sul pavimento, vetri distrutti. Questo lo scenario che si è presentato questa mattina dinnanzi agli occhi dei dipendenti dell'ASP dopo essersi recati negli uffici della Palazzina B di Via Cusmano. Un raid tinte fosche sul quale intaga la squadra mobile di Caltanissetta guidata da Marzia Giustolisi. Ad essere presi di mira dai malviventi i locali dell'economato, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio finanziario, del personale e del patrimonio, oltre alla farmacia, locale quest'ultimo, dove è stato staccato l'allarme, l'unico a quanto sembra presente nell'edificio. Da qui l'ipotesi che chi si è introdotto nella palazzina conosca bene gli uffici, ipotesi che sarà avvaiata dagli investigatori. Distrutti anche i vetri di una Fiat Panda e una Punto, aziendali, posteggiate nel parcheggio del cortile interno utilizzate dal servizio veterinario dell'ASP. Nessun danno alla sala computer, la porta è stata aperta, ma nessuno dei PC è stato portato via. Da una sommaria ricognizione e una prima conta dei danni, infatti, sembrerebbe che nulla sia stato rubato. Le casse forti dell'economato e dell'ufficio patrimonio non sono state manomesse, così come non sono stati trafugati i buoni pasto. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai dipendenti, sono intervenuti i poliziotti delle volanti, della mobile e della scientifica, che assieme al direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, hanno ispezionato la scena del crimine alla ricerca di indizi utili per incastrare i malviventi e scoprire l'eventuale movente. I ladri potrebbero essersi introdotti nell'edificio dalle scale di sicurezza. Gli edifici di via Cusmana, a quanto sembra, non sono dotati di sistema di videosorveglianza, né via il servizio di vigilanza interno. Primo attestato di solidarietà quello del presidente della regione, Rosario Crocetta, che ha espresso indignazione per quanto accaduto. Sono sicuro, dichiara Crocetta, che l'intento intimidatorio degli atti avvenuti questa notte non fermerà il cambiamento in atto, che mira ad offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini. La solidarietà mia e dell'assessore alla salute, Gucciardi, a tutto il management e agli operatori che, conclude il presidente, ogni giorno lavorano per migliorare l'efficienza dei servizi, garantendo legalità e trasparenza. Ripongo totale fiducia nelle forze dell'ordine affinché responsabili di questo vileatto siano presto individuati e consegnati alla giustizia. Queste le parole del sindaco Giovanni Ruvolo, appena presa la notizia dei danneggiamenti subiti dall'ASP di Caltanissetta. Rammarico del direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, per il vile attentato vandadico perpetrato ai danni dei locali di Via Cusmano, quello espresso ai nostri microfoni. Iacono, nel corso dell'ultima conferenza stamba, intetta per annunciare l'arrivo della PET, che sarà inaugurata domani, 16 febbraio, aveva anche dichiarato ai giornalisti che non si sarebbe fatto intimidire da lobby di potere e avrebbe proseguito nella sua azione di cambiamento. Parole forse scomode per qualcuno. Le forze dell'ordine già sono all'opera, compresa la scientifica. C'è da vedere se questo è un atto fatto da balordi, da tossici, oppure da altre persone che hanno qualche altro interesse. Io non ho nessun elemento in questo senso e sono sicuro che il lavoro che faranno le forze dell'ordine miauro porterà ad un buon risultato. È assurdo un atto del genere, ma più di questo commento e più di esprimere il mio rammarico per quello che è avvenuto non sono in condizione di dirvi altro. Tutti i dipendenti sono fuori dagli uffici per consentire alla scientifica di poter fare i rilievi e quindi appena la scientifica ci darà il via, loro rientreranno negli uffici, faranno gli inventari e ci diranno se manca qualcosa. Atti vandalici che arrivano il giorno prima dell'inaugurazione della PET, secondo lei è qualcosa che è congadenato oppure è solamente casuale? Potrebbe essere casuale, potrebbe essere congadenato. Non ho un elemento per poterlo definire, non vedo come l'inaugurazione di un'attrezzatura così importante possa contrastare con gli interessi di qualcuno, quindi non ho elementi per poterlo dire.